Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo un contafili in plastica di un diametro abbastanza elevato, sono 50 mm. È un contafili facile da trasportare, molto comodo ed essendo in plastica viene stampato con una lente addizionale sopra, uno spot e questo spot permette di ingrandire di più. È ottimo per osservare tessuti, filati, stampati, ma viene usato anche per osservare foglie, insetti, fiori. Vedete qua, mi stiamo guardando attraverso la lente. È una lente molto precisa, nitida. In origine il suo nome deriva dal termine contafili, serviva per misurare in un centimetro quadro il tessuto, la trama e l'ordito, mentre adesso è utilizzato in altri settori, nel settore della grafica, della stampa, ma anche per le scienze naturali. Grazie per l'attenzione, come al solito vi chiedo di iscrivervi al nostro canale per restare informati e per vedere altri utili video. Buona giornata e grazie.